Il comune di Colico ha un nuovo portale turistico. Navigando tra le sezioni di Visit Colico si possono scoprire esperienze, eventi, sport, tradizioni e curiosità di un territorio tra lago e montagna. Un anno di lavoro che ora più che mai si rivela indispensabile per rilanciare il settore turistico così duramente colpito dai mesi di fermo per l'emergenza coronavirus. Dopo tanto lavoro e tanto tempo finalmente rilanciamo Colico con un nuovo portale smart, un nuovo portale giovane, un nuovo portale anche fruibile. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di ripartire e ripartire con un prodotto che dia la possibilità a tutti di esserci, alla comunità, agli operatori e a tutti i turisti che vorranno venire a trovarci. Il portale lo troverete online ovviamente Visit Colico, sarà organizzato in diverse sezioni, una sezione di cui sono veramente orgogliosa per esempio le ricette del territorio. Mai nessuno ci pensa però noi facciamo parte di un territorio e siamo quello che siamo perché abbiamo delle radici, non solo sport ma anche davvero tanta cultura. Un portale meraviglioso a portata di tutti che con un clic ci fa visitare e vivere esperienze del territorio. Sono certa che Colico con la sua montagna e i suoi laghi sarà protagonista di questa estate insolita. Insolita ma non solo per la Lombardia, per tutto il mondo ma veramente forza di quello che ci dà il nostro ambiente meraviglioso, percorsi sportivi, enogastronomici e culturali, saranno sicuramente un insieme di cose che faranno sì che tanta gente verrà in vacanza da noi. Siamo ripartiti, i dati ci fanno ben sperare, sicuramente dovremo un po' modificare il nostro modo di pensare, avremo più un turismo di prossimità più che stranieri anche se stamattina vedevo con piacere sulle strade che qualche macchina targata straniera comunque già iniziava a circolare. Io voglio essere ottimista e voglio pensare che comunque alla fine quando tireremo le somme di questo anno che ci ha veramente provato avremo un bel ritorno. Partendo anche un po' dal discorso dei dati dell'anno scorso che sono arrivati ufficiosi e abbiamo visto che nello scorso anno è stato un anno veramente incredibile per quanto riguarda la nostra zona lecchese eccetera di afflusso turistico abbiamo registrato circa un 20% in più di presenze quindi questa cosa lascia veramente ben sperare.